Buonasera a tutti ragazzi, stasera veramente abbiamo un pezzo di storia HD, Harley Davidson. Si tratta della prima V-Road, nel 2002 Harley Davidson inventava questo modello, raffreddato a liquido col motore 1130. E' la primissima versione originale come mamma Harley l'ha fatta. Carrozza alluminio, telaio grigio, motore cromato. La moto si presenta come era di serie, con gli specchietti originali, il manubrio originale, il Sissi originale. E' il nostro carissimo cliente, collezionista. La moto è del 2002, ha fatto 3200 km. Ripeto, del 2002, 3200 km. Prima serie V-Road, da collezionista, da amatore. E' in vendita al prezzo di 10.000 euro. Vi aspetto da queste parti, se volete portarvi a casa un pezzo raro, noi ce l'abbiamo. Buonasera a tutti, ciao. Grazie a tutti.